Ragazzi benvenuti in questo nuovo video su Warzone Oggi vi porto un bel gameplay iozzo con tante tante bombozze Un po' bruttina questa intro, un po' imbarazzante In cui ragazzi andremo ad utilizzare un'arma che non uso mai Ovvero l'M13 e il nuovo cecchino che ormai ho in ogni classe Praticamente siamo tornati all'epoca dell'HDR che lo usavo praticamente in ogni classe Uguale M13 e il nuovo cecchino ragazzi Vi faccio vedere ora la classe È veramente una classe molto simpatica L'M13 non lo uso quasi mai A sto giro mi sono trovato molto bene Da vicino e medie distanze ci sta Non delude Fatevi sapere se voi utilizzate l'M13 Se l'avete mai utilizzato durante queste varie season di Warzone Io personalmente l'ho usato pochissimo E niente vi lascio il gameplay Gustatevelo tutto ragazzi Guardatelo fino alla fine perché è veramente molto caruccio Buona visione Terra 1 Cactus Jack Dai non ci gradiutemi i colpi raga Mi ha roccato un cippino Sono safe Occhio occhio Leo ci puoi guardare te se entra Arrivo sto luttando Non l'avevo capito fosse così drammatica la situazione Sono in due No ragazzi sono in due berro Damn bro Stam pushando Dove? Nella casa nostra Uno sta salendo Che fai? L'ultimo è sopra raga Come sopra? Sopra 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 Ma che sopra? E' vero è vero ci avete sopra Uno è sotto Dario veni verso di me Così come vieni a fermarti lo killo Sopra Bravo bravo Ma scusa ma qua si è veramente Mi sa che è salita dalle scalette per quello Ah ok Sono da sotto Mi sparano Mi ho detto magari non essendo molto esperto Ragazzi ragazzi Ma non vi ha attaccato Qui sono safe in teoria non mi vede Prova a venire Ma dov'è? E' dentro alla finestra di Quale finestra ho delle tre La 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 E' dello sniper Io ho c'ho lo sniper del cazzo Traccato Sono tutte alle finestre raga Sì ma infatti raga secondo me dobbiamo scendere da qua Che figlio di puttana tira fuori dalla tua testa Vabbè si andiamo io mi compro le piastre raga Vi giuro mi sono rotto di fai tre Questo cecchino lo leviamo subito Andiamo a sto raga Stimile al suo Ragazzi uno davanti Uno su Stato Anche sotto raga ancora figa Ti puscia? Ti è buttato? Bravo 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 Ragazzi facciamo l'hond Guarda quanti soldi ho cazzo Andiamo Ma che ci sta il ram senza mino Se usi cecchino lo dovresti usare da vicino alla fine no? Ragazzi ma chi è che spara? Non ne hai idea La terra raga La terra qua Ma dov'è? Il piano intermedio E' sopra il tetto A terra Craccato Sceso un altro C'ho le semtex Ragazzi rate Robbe si bravi Morti Bravo 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 Mi ha noccato raga Bicchiadario però spara almeno ti prego La torre C'è vero che non fa un cazzo in game Dirigina airport vai lì Ti lanci Fai quello che devi fare Ma dove cazzo spara ragazzi? Non ho qua Davanti zio Gua girati cristo di dio Non ho preso una kill Ancora sto per urlare Eh raga ho bisogno Ok me ne ho prese due Ottimo Ho bisogno di una torre Bravo Hai un ricercato addosso ma perché? Qua 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 Sopra raga Perché dare un ricercato addosso raga? Seriamente Scusate la mia domanda Non voglio essere inopportuno a dare Però c'è non hai un ricercato addosso perché? Eh perché ho bisogno di una torre Gettela mezzo un ricercato addosso Valentina Nappi Prendiamo fantasma raga Non so da dove eh Qui davanti raga qui davanti Pinga 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 Eh non posso perché sono dentro la casa Era qui fuori comunque È morto L'ho ucciso qualcuno L'ho ucciso qualcuno Porto uno Però ci sono altra gente Stundo nel dubbio San Gabriele è lui È dietro raga No io avevo sparato raga era in testa Ok Abbiamo sparato in testa E ma qui se il deadino vi salva la vita ogni tre secondi raga Cioè la situazione degenera eh Pazzesco Ti ringrazio Dove cazzo è? Sono scesi sono scesi Atterrato uno Due Il testo va pushato raga eh Ciao Bello Kamikaze Minchia Veramente un kamikaze questo qua Si è buttato proprio sulla morte Con la bocca dello squaloxe Mi hanno messato il per la cadute Snaccato uno Snaccato Non lo perdo cioè Facile Sono italiani questi qua eh Ah no Ma dove cazzo è sotto? Ah alla scala Alla scala Ricercate qua da noi eh Sì è tipo dentro ferro raga A terra uno dentro all'hangar E ancora l'altro Uno sta costruendo adesso Bravo Fatto Andiamo il camion Andiamo Chi è che ci spara? Cioè raga ci sta pushando gente eh No non l'ho hittato È sopra il tetto questo No è uno esterno È dietro di te Dario Dario dietro di te Ho c'è Dario l'ho visto sopra Ma c'è neanche uno Ma raga ma sembra che sto tenendo A terra Ubriachi No mica io vi giuro Ovunque vi giuro c'è gente È sopra sto tetto qua eh Berro Ce l'ho io L'ho visto L'ho visto Morto vai A bordo Il camion sta partendo Avete il biglietto? Allì Berro Vai Non riesco a sedere qui secondo voi? Non ha fatto cosa andare a piedi Se si sale 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 Micchia è potentissimo raga A piedi non ce l'avrei mai fatta A fare sta roba Hai visto quanto è veloce adesso? Sì È lì sopra raga Dove? Sopra una casa? No guardate che se ci mettiamo qua su Siamo avvantaggiati noi da qui Devono salire in piedi sul co Sì ci sta mirando sono due No l'ha hittato uno C'è anche un altro eh Sì 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 Knockato? Bravo No ma non lo posso finire io quello là Andiamo lì sotto vai Ci saliamo Raga non l'ha finito Non so come sia possibile Io non ho knockato uno Uno era a terra eh Bravo devo entrare dentro Ti ho trovato bombardamento Penso che siano buttati forse Ragazzi ho buttato un altro mio Anche silenzio Dall'altro lato Traccato Quanti sono? Eh mi sa vivo ancora uno eh Sì da qualche parte Fuggito forse Ma è andato via Andiamo se lo pinga Mi sparo un cecchino Dove? Sotto mi ha knockato È sotto dove c'è L'ultima casa in basso a destra Raga Mi stavo volentando No sto a terra andando questo Aspetta un po' quello sistema Io Tuo vergine A terra? La casa che fa a L? L'ho visto Ho visto anche un laser verde Ma era il tuo berro? Sono italiani Minchia Che posizione di merda Perfetto E' giù Sì va bene Andiamo a uccideremo Cazzo Sotto banca questo va Che sta mirando qui Ve l'ho detto Quando sei giù Sei su è peggio Perché ti devi mettere in piedi In piedi Invece sei giù Devi soltanto mirare Andiamo a prenderle giù Questo va berro Sì dimmi dove È sotto banca Andiamo Veloce Non so dove è finito È da qualche parte qui raga Sopra non c'è berro Dove se ne tolto qui Pusciamo assieme va Pietro Pietro lo faccio io Andiamo Nato Morto morto Non è lui Non è lui Non è lui Tag E' Napoli Questo va No l'ho ammazzato io uno Con quella tag lì E' un paio Quello che mi ha noccato a me Tag Napoli E' ancora in giro secondo me Andiamo ce ne larghi qui raga Per me questo tipo è ancora in giro Ne sono quasi sicuro Anche secondo me Perché ce n'era uno lì ma No ma più che altro perché ripeto Cioè io l'ho visto Quello che mi ha noccato era Tag Napoli Quindi questo era un altro Vabbè spara ancora davanti Andiamo 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 Vabbè Lo becchiamo dopo magari Dietro da destra Da destra Lui 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 Dove Non so Mi è arrivato un colpo di cicchino da dietro Spaccato Non è lui Bravo Probabilmente c'è un altro No mi sparano altri Raga raga È un altro team Devi beccare Becca Becca Non sono loro Sono loro È un altro team Cioè sono i compagni di questo Sono più persone Sono più persone Raga mi sparano anche dal davanti Che merda di situazione Non ne vedo uno Sono scesi giù raga Aspetta che scendo anche io da voi Se ce la faccio Se non crepo Erano due In quella casa Sì erano due Raga in teoria se becchiamo abbiamo la safe Sì sì Eh vabbè però se è esponendo in open Eh ma in teoria scendi sotto Quindi non ti vedono Lo si però Però anche Ma non ho caduto da destra Ce la fai a capire dov'è? Taccino un ping Ping Eh no Tipo da questa direzione qua ma Non lo vedo È in mezzo alla strada Morto? Bravo è lui Guarda lì Erano loro fuori tutti Bravo Altri che mi sparano Hanno piastre questi Traccato qui Occhio ragazzi Sono un team mi sa Sono messi meglio di noi Andiamo a prenderli che mi compraghanno le piastre L'ho caduto dentro la casa Ma non ho caduto ancora da dietro raga Attenti da dietro Oh che due coglioni Ti puoi restare? Sì sì Aspetta vogliamo buttarmi se Ma niente Ma non ci sono Devo far vedere dove era Sopra la casa Sopra dove eravamo prima raga Il palazzo alto Noccato fuori Andiamo Però Sono dietro di te In casa In casa Allo scudo Allo scudo Mi senti? Dimmi sì 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 è qua dentro Allo scudo qua Sì Fuori Lo stunno Stunnato Andiamo Aspetta aspetta Aiuto Aspetta 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 Sono dietro Vai Devi girare Perché ci sparano da dietro Le dobbiamo andare di là Che palle Di situazione assurda È qua dentro Te tu vai Vai È un colpo No però mi ha dato fuoco Non so Non ho più piastre Raga mettere lo shop Potete restare il volo? Entra Buono Buonissimo Sono gelato il sangue Cazzo Vabbè possiamo restare E prendere le corazze Quello che ho notato Prima dietro L'hanno restato Perché non mi ha dato la kill Eccoli Sono futti che ci mira Come sono quelli di prima italiani Sono lì che ci stanno mirando Da mezz'ora Grazie Se vuoi Vieni qua Vieni qua Sì Sto rimando da voi Minchia che situazioni Quelle dove loro Devono mirare un punto Ma infatti esco sai Io esco da qua Bravo anche te Andiamo verso questi qua Cerami di merda Facciamo questi Mi stanno continuando a itare Io però veramente Da dietro Devi tenerti la casa alle spalle Tipo Tieni qua Tieni qua Non arrivo Terra 1 Bravi raga Passa di piastra Sentimento Ragazzo dell'Activision E' preso Guardate che tiro raga No 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 la tiro Io ne ho 7 Voi ne avete? Io 6 Sì Ragazzo no mi fanno Andate ora se volete Minchia ma se ne stanno sbattendo Le bombardamento Sono continuando a spararmi Ok le piglio anch'io Ci abbiamo Sono sopra ragazzi Ci sono sopra Arrivo Faita 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 Arrivo Arrivo Ma il suo bombardamento Chi l'ha tirato? Loro Loro Che posizione raga Eh minchia Una merda Ragazzo Se ci sappiamo Tutti andiamo alle case giù No Vai lanciamaci Ragazzi mirano da destra Andate veloce Mi sono lanciato io Io sto dentro Anch'io Ti posso coprire Ok easy Sono entrato Sono entrato Era uno Bravo Confermato Era quello di prima Erano in due Ce n'è un altro passato sotto C'era uno che è sceso invece Mi spara uno Dalla casa qua eh Tipo Qua 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 uno Entrato Andato dietro Vedo nessuno Ok sopra Hittato Pinga 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 Non lo vedo Vogliamo prendere posizione raga Vogliamo prendere già la posizione Dovremo andare Buttiamoci da dietro Eh merda Sono già uscito Vabbè Faccio io da Da coglione Che va avanti a morire Perché c'è uno davanti alla casa là Raga Blockato venite Andate a restare solo Lo bombardo Rosso Grazie C'è anche l'amico Che pal Ok ho messo a terra un altro Andiamo 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 Ho messo a terra due Vai vai Eh raga mi sparano tutti Però veramente È una cosa incredibile Non li riesco a vedere da qua sotto Te lo giuro Non ho più manco gas Aspeglie tu un pezzo di testa Marga ma perché non l'avete crossato voi Eh no È perché qua È qua la safe Le ho Mi hanno dato le kill È 3v3 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 Sì sì sopra 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 Non posso venire Non posso venire È meglio Leo Minchia Leo sei lì C'è la tua posizione di Cristo Dovete pingare Sopra la montagna Sopra la montagna Sopra la costa della Viste Dai viste Rivedi Rivedi Blockato 1 Non so se ha pushato sotto Berro Non credo Sì sono sotto Sono sotto Era qui vicino al guretto Berro Abbiamo vinto Bravi Bravi Voto Bravi Quindi là sopra Non si sono presi due sberle di sniper Minchia fuori dai coglioni Bravo Bravo Leo Quante ne hai fatte? 24 È buono Che dire ragazzi 24 bombosze Potevano essere anche di più Certa gente è stata noccata Si è rialzata Ma sti cazzi Comunque un bel gameplay Più che altro Il cecchino qui è stato veramente chiave In tante situazioni Ha permesso di sbloccare Appunto delle situazioni un po' complesse Un po' come sempre In realtà il cecchino fa questo Cioè ti permette di sbloccare Tutte quelle situazioni difficili Che non potresti sbloccare Con armi normali Oltretutto In tutto ciò Secondo me abbiamo fatto anche Delle giocate molto carine A livello di fuga Da determinati fight Ci sono state situazioni In cui eravamo in svantaggio Come posizione Come verso l'endgame Quando eravamo sul monte Ci siamo buttati giù E abbiamo evitato un fight Che ci avrebbe sicuramente Portato alla morte Perché eravamo messi di merda Proprio veramente brutto Vedo ciò Spero vi sia piaciuto questo gameplay E ragazzi lasciate un bel like Noi ci becchiamo alla prossima Qui da Velox è tutto Bella raga